L'Associazione Nazionale Alpini ha scelto l'Abruzzo per le Alpiniadi estive 2022, con tante gare che inizieranno il 16 giugno sull'Appennino del Gran Sasso e sul Sirente, nelle province dell'Aquila e Teramo, e termineranno il 16 giugno. A presentare le Alpiniadi in Regione, l'assessore regionale allo sport, Guido Liris, il presidente della sezione Abruzzi, Pietro D'Alfonso, il consigliere nazionale dell'ANA, Tonino Di Carlo, che fa parte della commissione sportiva. A sette anni dalla donata nazionale Alpini del 2015, tornano le penne nere. Non si può dimenticare la loro preziosa opera in occasione del sisma del 2009. Nella giornata del 16 giugno ci sarà la cerimonia di apertura delle Alpiniadi con la presenza alla Sera della Fanfara. Il 17 corse individuale a Rocca di Mezzo, mentre il 18 giugno a Fossa sarà la volta della marcia individuale. Nella giornata di sabato ci saranno le gare di orientering e carabina laser, con una serata in Piazza Duomo. La domenica, la giornata clou, quando ci si ritroverà a Isola del Gran Sasso. C'è molta emozione perché portare, avere le Alpiniadi in Abruzzo, io che sono abruzzese, quindi ha una doppia valenza. Per la sezione Abruzzi un successo, ma vuole anche essere un premio, perché la sezione Abruzzi da 25 anni partecipa ai vari campionati nazionali che si fanno in Italia, che sono nove ogni anno. La domenica, giornata clou di tutto, la corsa in montagna staffetta ad Isola del Gran Sasso, esattamente davanti al santuario di San Gabriele. Finita la gara, ci sarà la premiazione di tutte le Alpiniadi. Per noi è un grandissimo onore aver ottenuto le Alpiniadi del 2022. Dovevamo farlo due anni fa, non siamo riusciti per la pandemia e oggi lo facciamo con ancora più entusiasmo. Il Presidente nazionale sarà presente da giovedì fino a domenica, collaboro nazionale. Devo dire che il Presidente nazionale alla sezione Abruzzi ci tiene e noi siamo soddisfatti per quello che ci dà.